Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto GPS per Autorupse Card. Specificazioni, generelle, Power Supply, 612 Volt Max corrente. 10 a dimensione di installa. 180 mm, 160 mm, 100 mm, panel seats e staccabile. 169 mm, 103 mm, 25 mm, peso lordo. 3, 5 kg, peso netto. 3, 0 kg, display, tipo di schermo. 7 INCH2, schermo risoluzione. 800 RGB 480, bui il tiro orologio e calendario IPO di display, user standard LateSoft, immagine e parametri regolabili. Luminos a contrasto colore 3D, rotating screen menu, si, mostrerà le immagini di 3D mentre cambiare il menu sullo schermo, cambiare l'icona position, si, la posizione delle icone può essere cambiato a piacimento. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione. Grazie. 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 Grazie.